Eder, Mech, Pallister. Come mai hai chiamato Manuela a casa tua ad ascoltare le chiamate telefoniche di Pierina? La Pierina dicesse delle cose a sua figlia non veritiere e voleva sentire e sapere se era vero che le diceva con i suoi figli e le riferivano alla sua figlia. Mi è stato chiesto, io non ho mai origliato niente e nessuno, perché di principio mi faccio gli affari miei e porto rispetto a tutti. Obiettivamente fra tutti tu sei quella che non avrebbe alcun movente per aver ucciso Pierina. La Pierina che a me sinceramente non mi dava nessun fastidio. Avevi avuto una volta una discussione con lei, ma tanto tempo fa. Era una lite per una pianta sopra una sedia che è stata nel 2001, secondo te dopo 22 anni la devo uccidere con 29 coltellate per una lite di una pianta? Allora l'amassavo il giorno dopo, adesso dopo 22 anni, lascia pure che la vendetta va gustata fredda. Io glielo ho chiesto milioni di volte un confronto, tranquillo, pacato, gli ho detto ci parliamo sul corridoio che è zona neutra, non vieni in casa mia e non vengo in casa tua, parliamo sul corridoio che è zona neutra. Ci sei venuta a te a parlare? Io non le parlo, non la saluto, non voglio fare schiamazzi, non voglio attirare attenzione e lei continua a dire cose che non stanno né in cielo né in terra e allora direi che è ora di prendere pubblicamente le distanze, così come dice che io gli metto le canzoncine insultanti. Se scoprite che ha ucciso la Piera così finalmente ci riabilitano e brindiamo a che l'assassino stia in galera almeno 50 anni e se è più vecchio che ci muoia dentro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.